Erice è la città del sacro, è una delle città più importanti di questa popolazione insieme a Segesta e a Entella e quindi siamo venuti qui a rivolgerci alla DEA. Grazie veramente all'ospitalità dell'Istituto Ettore Majorana, del professor Antonino Zichichi che veramente voglio ringraziare di cuore per la grande apertura di tutte queste bellissime sedi che ospiteranno intanto la mostra fotografica e poi a seguire la mostra archeologica con i reperti di Entella e concluderemo a settembre sempre con l'Istituto Ettore Majorana con un convegno internazionale che vedrà la regia della Scuola Normale Superiore di Pisa. Devo ringraziare Anna Magnetto e il laboratorio Sight che ci hanno dato veramente un grandissimo supporto sia per aver ripreso le ricerche archeologiche a Entella e a Segesta ma anche per aver dato subito e immediata disponibilità per l'organizzazione di queste importanti iniziative.